Questo non è un semplice supermercato. Ogni giorno ritrovi freschezza, qualità e i sapori genuini di una volta. Settimana di allenamenti serrati per l'OS Angri in vista di quello che sarà il mese decisivo per le sorti della squadra grigio-rossa. Quattro gare contro Salernum, Santa Maria, Poseidon e la capolista Scafatese, che potranno delineare la griglia definitiva dei play-off alle spalle dei Canarini, primi con otto punti di vantaggio proprio sull'Angri. La prima gara in programma domani a Baronissi contro il Salernum, partita difficile con i salernitani che vantano la migliore difesa del campionato. Intanto in settimana, ultimo acquisto per i grigio-rossi di Antonino Gargiulo. Si tratta di Elia Capissi, esterno d'attacco classe 97 che è già concentrato sul suo primo impegno di campionato. Sono Capissi Elia, nato a Napoli il 25-1-97 e niente, sono nato e cresciuto alla Mariano Keller, poi dopo ho avuto un'esperienza con l'Arezzo, Serie C, la Beretti. Dopo lì sono andato tra, ho militato tra Casagiove, Maddalonese e quant'altro. Sono approdato al San Tommaso, piccola esperienza e ora speriamo di fare bene ad Angri. Ora faccio conoscenza con la squadra, ho visto che sono fortissimi, speriamo di dare tanta gioia al popolo di Angri che merita. Una gara difficile e piena di insidie per l'Angri, che i grigio-rossi vogliono affrontare con al fianco i propri tifosi. Arma in più della squadra, l'appello di Capitano Loreto ai sostenitori. L'appello è quello di seguirci sempre, è ovvio che, come detto prima, evitare i comportamenti che poi possono portare a squalifiche e a gare giocate a porte chiuse, perché per noi sono un punto di forza e se poi non c'è la loro presenza, questo può andare contro di noi, quindi è meglio evitare.